Lo sapete qual è la mia serie tv preferita? Ve l'ho detto qualche settimana fa, la mia serie tv preferita è Scrubs, uscita in Italia come Scrubs Medici ai primi ferri, che è anche un bel sottotitolo, per una volta l'hanno fatto bene. Scrubs è una serie che a distanza di tanti anni dall'uscita secondo me è ancora semplicemente perfetta, era perfetta quando la guardavo una puntata a settimana su MTV, all'epoca se qualcuno si ricorda usciva il giovedì mentre il martedì c'erano gli anime, è perfetta ancora oggi quando la si può andare a recuperare guardando una puntata dopo l'altra. È una serie che secondo me non ha praticamente punti deboli, se andiamo a escludere il folle tentativo di fare un'ultima stagione che con il vero Scrubs non ha niente a che fare. È una serie che fa morire da ridere, ancora oggi secondo me, è una serie che fa pensare tanto ed è soprattutto secondo me la miglior serie televisiva mai fatta quando si tratta di raccontare il mondo della medicina, quando si tratta di raccontare il mondo vero in cui si muovono medici, infermieri, osse e questo vale, se lo si paragona alla sanità italiana, che diciamo chiaramente è molto diversa rispetto a quella statunitense, figuratevi se lo andiamo a paragonare alla vera sanità statunitense, la cosa è riconosciuta credo dai medici in tutto il mondo. Ogni volta che parlo con dei colleghi e gli chiedo secondo loro qual è la serie più corretta dal punto di vista medico, loro mi dicono tutti Scrubs e quindi vi assicuro che non è un'idea solo mia. Ma per chi non l'ha mai visto, che cos'ha di così meraviglioso questa serie? Beh ve lo sintetizzo in una parola sola, parla della vita, della vita reale delle persone e dei medici che con quella vita spesso hanno a che fare. Quindi mettetevi comodi, io mi preparo a evitare di far scendere lacrimucce e iscrivetevi al canale se non lo siete già, sigla e poi iniziamo a parlarne. Oggi di serie televisive dedicate al mondo della medicina ce ne sono tante e alcune sono anche abbastanza tecniche, mettiamola così, ma all'epoca di serie legata a quel mondo non ce n'erano tantissime e immediatamente dopo o più o meno negli stessi anni uscivano delle serie che pur sembrando di ambito medico in realtà con la medicina reale avevano pochissimo a che spartire. Perché ad esempio Dottor House, Dottor House è una serie per carità divertente durante l'università che con Quilini ogni tanto ci guardavamo degli episodi e magari ridevamo, cercavamo di indovinare quale fosse la diagnosi finale andando a spulciare tra le assurdità che avevamo studiato per qualche esame, ma in realtà non ha nulla di reale perché House è un medico che nella realtà non esiste perché è un tuttologo, ne sa di qualunque argomento, sa fare qualunque cosa, entra in sala operatoria, fa esami particolari, sa fare tutto lui, ma soprattutto segue uno schema nel trattare i pazienti che nella realtà lo avrebbe già portato in galera da tempo perché è vero che alla fine riesce sempre a trovare la diagnosi, ma per arrivarci fa fare al paziente degli esami rischiosi completamente a caso, spesso molto costosi, senza seguire nessun ragionamento logico. Cioè io ho due patologie, non so quale sia delle due la possibile causa dei sintomi, uno lo posso diagnosticare semplicemente facendo un esame del sangue, per il secondo devo invece fare un intervento sul cervello, ecco nella realtà magari faccio prima gli esami del sangue e poi faccio il secondo, invece lui fa prima il secondo. Tutto questo, ripeto, nella realtà porterebbe in galera e vi assicuro che vedendolo, facendo il medico, si capisce quanto le cose siano completamente inventate. Un'altra serie tv che in ambito medico funzionava, questa antecedenta Scrubs, era invece IR, serie molto vecchia dedicata al mondo del pronto soccorso. Ecco, IR è già una serie molto più realistica, molto più bella, anche se ovviamente oggi si sente un po' la distanza temporale, ma è una serie che ha uno svantaggio, concentra in una singola notte eventi che normalmente in un pronto soccorso capitano magari nel corso di un mese, per rendere il tutto molto più drammatico, molto più di tensione, molto più vivo. La cosa ogni tanto fa veramente sembrare i medici di IR dei superuomini. È vero che un medico di pronto soccorso oggi non ha praticamente una vita privata, purtroppo per come vengono gestiti i pronti soccorsi e i carichi allucinanti di lavoro che hanno, questo sarebbe un discorso molto più ampio e diverso, ma i medici di IR forse sono un po' oltre anche quel livello. Quindi, bello per carità, ma forse un pelo eccessivo. E poi c'è quello schifo allucinante di Grey's Anatomy. Grey's Anatomy con la medicina non ha nulla a che fare. La cosa che ha più a che fare di Grey's Anatomy con la medicina è il nome Grey che è legato ad un manuale di anatomia, perché tutto il resto è completamente inventato. È veramente completamente folle, assurdo, ampiamente delirante. E io mi chiedo ancora, ovviamente sono milioni di stagioni, ho visto solamente le prime, anche lì un po' a spizziche e bocconi, mi chiedo seriamente ancora come facciano andare avanti a fare delle serie. Credo che ormai sia diventato praticamente beautiful, quindi con la medicina non ha nulla a che fare. Poi in quegli anni ne usciva anche un altro di ambito medico, Nip & Tac, dedicato alla chirurgia estetica, però diciamo che lì, secondo me, la medicina era molto settoriale e lasciata un po' in disparte. Ecco, Scrubs invece è diverso. È diverso perché si vede che realmente chi l'ha scritto era più interessato a raccontare quello che era la realtà, più che a fare spettacolarizzazione, perché si è reso conto che nel raccontare quello che realmente avviene in un ospedale, quello che realmente avviene a delle persone, medici, infermieri, che crescono, si formano dentro un ospedale, che si trovano giorno dopo giorno a convivere con malati, con leghi magari bizzosi, problemi di assicurazioni nel caso degli Stati Uniti. Ecco, già solo quel mondo lì meritava di essere raccontato senza essere trasformato in beautiful né essere trasformato in un film di supereroi. Perché è questo che fa Scrubs. Scrubs racconta la storia di persone che si trovano a fare un lavoro difficile, affascinante, che hanno scelto, e che per la maggior parte di loro è l'unico lavoro che potrebbero mai fare, ma che allo stesso tempo li mette alla prova. E loro ne escono, ripeto, non come dei supereroi, ma come delle persone normali. Nella scena iniziale di Scrubs, la primissima scena, tutto questo viene dichiarato in maniera chiarissima. La prima scena vede il protagonista, JD, che sta correndo attraverso l'ospedale e la voce fuoricampo, che lo accompagnerà per tutta la serie, e la sua ovviamente voce fuoricampo, che dice che in quel momento è in corso un'emergenza e tutti quegli anni in cui ha studiato medicina, si è specializzato, si è preparato, ha studiato, lo hanno preparato a fare l'unica cosa possibile in quel momento. Dopodiché apre la porta di uno sgabuzzino e si chiude dentro. Tutto questo è umano. Perché noi potremmo pensare, ma come lui, giovane medico, si lancia, va verso l'emergenza? No, perché la prima volta che capita una cosa del genere, chiunque ha paura, perché chiunque si rende conto che quello che ha studiato fino a quel momento gli serve fino a un certo punto, poi nella realtà la situazione è diversa e la prima, la seconda, la terza, la quinta, la centesima volta avrà sempre paura di quello che sta facendo. Un infermiere, la prima volta che si troverà a fare un prelievo durante il suo corso di laurea avrà paura e forse continuerà adesso ad avere timore di fare certi prelievi ancora per tanto tempo. Tutto questo è umano e rende il percorso di crescita dei personaggi qualcosa di assolutamente bellissimo da seguire, che a volte letteralmente ce li fa quasi invecchiare con noi. Io non so come dire, ma i personaggi che ci sono all'interno di Scrubs sono allo stesso tempo talvolta estremi, quando ovviamente ci sono le scene comiche, che spesso sono scene dell'assurdo, si utilizzano uno stile proprio tipico di Scrubs in cui avvengono delle scene che sono immaginate dal protagonista e che permettono di mettere a punto degli sketch dell'assurdo in mezzo a storie vere. Sembra quasi ogni tanto un po' uno stile simile a quello dei Griffin, in cui ci sono le battute sulla narrazione principale e poi ogni tanto c'è la scena staccata completamente assurda. Un po' lo stile, se vogliamo, è quello, ma i Griffin vengono dopo e quindi al limite sarebbero stati loro a espirarsi, ma ci sono altre serie che lo fanno. Però i personaggi, come vi dicevo, sono realistici e anche il percorso di crescita che hanno durante tutta la narrazione lo è pienamente. Nel loro percorso di crescita non solo vediamo personalità diverse, perché i vari personaggi hanno ognuno una personalità diversa e io francamente faccio nessuna fatica ad incasellarli in tutta una serie di personaggi che nel corso della mia vita lavorativa ho incontrato. C'è il chirurgo spaccone che ne sa veramente solo di chirurgia e non saprebbe curare un mal di schiena, c'è il medico precisino che studia dal mattino alla sera che ti sa elencare per filo e per segno tutte le 15 cause di singhiozzo ma che poi va in difficoltà quando deve togliere un pezzo di un'unghia. C'è il primario che ormai non ne ha più nessuna voglia di fare quel lavoro e che è quasi diventato un amministrativo piuttosto che un medico. C'è invece il medico d'esperienza che ha dedicato la sua vita all'ospedale e che magari ha una vita privata completamente distrutta proprio per questo e che vive per quel lavoro. Voi sapeste quante persone così ho incontrato? Insomma, sono personaggi reali in cui veramente io potrei incasellare tantissime persone che ho incontrato adesso ho citato medici ma anche infermieri, persone che gravitano intorno all'ospedale che danno un tocco di realismo al tutto e ognuno di quelli ha un suo sviluppo perché una cosa che ha sempre fatto Scraps e in questo secondo me è stato strepitoso è il non lasciare mai che i personaggi semplicemente fossero contorno ognuno di quei personaggi nel corso della storia ha avuto una sua evoluzione ha avuto una serie di cambiamenti con piccole eccezioni ma in realtà veramente molto scarde una serie di cambiamenti che te l'hanno fatto scoprire a tutto tondo e ti hanno fatto appassionare a lui quindi il primario che, ripeto, sembra questo mostro terribile che in realtà non ha più nulla veramente a che fare con la medicina ha dietro una storia molto complicata e ha molte scene, molte puntate in cui mostra invece il suo lato umano così il medico che, appunto, il dottor Cox che incarna l'uomo che si è votato in tutto per tutta la medicina dall'altra parte ha appunto una vita privata e quella vita privata pian pianino la va a riscoprire durante la serie ognuno di quei personaggi sa essere estremo e divertente e realistico e emozionante ed è proprio questa emozione che messa tutta insieme rende Scrubs qualcosa di diverso da una semplice serie comica perché con la scusa di fare battute Scrubs riesce a dedicare intere puntate ad argomenti molto difficili che non vengono mai trattati neanche dalle serie televisive che parlano di medicina perché dottor Hauser parla costantemente di malattie rarissime da cui bisogna cercare in tutti i modi di guarire di malattie presenti magari tre volte nella storia di cui gli sono davanti il quarto paziente che grazie a una terapia incredibile sarà salvato ma quello non è la realtà normale degli ospedali la realtà normale degli ospedali è fatta di persone che hanno paura di quello che dovranno affrontare è fatto di persone a cui vengono proposti degli interventi che magari rifiutano perché ne hanno timore per motivazioni religiose o perché questo vale per gli Stati Uniti non se lo possono permettere la realtà degli ospedali è fatta di persone con patologie magari gravi che a un certo punto dicono basta decidono che la vita è loro e vogliono smettere questo accanimento terapeutico cui noi tutti siamo un po' portati a sottoporli non volendo rinunciare alla speranza di poterli salvare e decidono che la cosa importante è la vita Scrubs parla di questo Scrubs può dedicare una puntata ad una donna che decide di morire degnamente rinunciando alle cure perché ha vissuto una vita degna e è contenta di quello che ha avuto Scrubs può dedicare puntate uscendo dall'ambito medico a cosa voglia dire a 30 anni, 35 anni cercare un o una partner che sia per la vita cosa funziona veramente in una coppia perché due personaggi che sembrano nati per stare insieme a volte hanno una piccola crepa che li rende in qualche modo incompatibili ci sono tanti esempi di questo tipo problemi di fertilità problemi appunto di coppia problemi nel relazionarsi con l'età che avanza con le cose che cambiano tutto questo è Scrubs e vi posso assicurare che anche a distanza di anni ci sono dei discorsi, delle scene dei momenti che io mi porto dietro e che credo abbiano in qualche modo influenzato il mio modo di rapportarmi alla pratica clinica abbiano realmente influenzato il mio modo di fare il mio mestiere spero francamente in meglio e tutto questo per una serie tv che ufficialmente nasce semplicemente per divertire beh, tutto questo è qualcosa di incredibile dopo tutto, fin dalla sigla quello che era il suo obiettivo della serie tv lo dice, lo dice chiaramente la sigla si chiama I'm no superman io non sono superman quelli non sono dei dottor house che non c'era ancora ma lo diciamo noi ma sono delle persone vere che si occupano di medicina e se volete veramente sapere cosa voglia dire vivere, lavorare in quell'ambiente quella serie è sicuramente strepitosa io ve la straconsiglio inizio a sentire gente che non l'ha vista ed è un peccato perché c'è stato il revival di Friends c'è stato il revival di Beverly Hills di Dawson Creek serie che per carità sono state epocali bellissime Friends è una serie che vista oggi persino strana ma di Scrubs se ne parla troppo poco e invece Scrubs è secondo me la più bella serie mai girata che parli di esseri umani della loro vita delle loro malattie e della loro morte quindi se non l'avete mai vista io non posso che consigliarvela e dirvi recuperatevela e se l'avete vista ed è tanto che non lo fate andatevi a recuperare qualche puntata vi assicuro che ne varrà tantissimo la pena ci vediamo presto con una nuova recensione grazie a tutti